e continuiamo con i nostri amici di Gravina lui è un grande imprenditore che si presta alla politica come assessore ma assessore di cosa ce lo dice lui? Pino Laico Allora prima di tutto grazie per l'invito sia a te che all'amico Non riesce a dire il nome, si emoziona solo a dire il mio nome No no no, mi sono emozionato solo a pensare Pierluigi Ripeto grazie Allora assessore alla politica Attività produttive Ce l'ha, ce l'ha E anche, vabbè mi fermo qua, ne dico solo un'altra No no, ne dico solo un'altra Anche perché noi che siamo tutti di Gravina quelli che guarderemo Ecco, allora alla tutela e valorizzazione dei prodotti enogastronomici locali Ci piace Ecco, poi in più voglio dire se vado avanti ho ancora 6-7 delle che dà Tipo? Quella bellissima Quella bellissima è il randagismo Ecco, è la tutela degli animali Che fa onore al comune E alla mia famiglia perché io forse lo sapete anche voi che abbiamo una figlia che è addirittura la Presidente Lampana a livello nazionale No, non è vero perché tua figlia ci è stata molto utile per un altro format della tua tv che si chiamava Mi ricordo Dog Stories Sì, mi ricordo, bene E poi voglio dire si va avanti con le altre deleghe tipo la viabilità, tipo la segnaletica turistica, la segnaletica orizzontale verticale Aspetta, aspetta Quella segnaletica orizzontale, vediamo Quella orizzontale Quella orizzontale Con la verticale se non sbaglio è quella verticale Quella verticale, bene Giusto per dover diciamo che l'orizzontale è quella che troviamo a pavimento a terra e quella verticale è quella che troviamo sui paletti Ma lui guida guardando sempre i messaggi, anche se pensi che stai guidando bene È digitale a me la segnaletica E approfitto anche per dire, penso che farà piacere a chi ci seguirà, a chi ci sta sentendo eccetera eccetera Che questi giorni è partita, dopo tanto tempo, dopo un po' di anni, la sostituzione, la modifica dei cartelloni turistici Dei cartelli turistici Anche perché sono obsoleti Sono obsoleti, mancava qualcuno perché negli ultimi anni, penso che tanti lo sanno Che il Ponte Acquedotto ha avuto un boom, ha avuto un successo enorme Mancava proprio quel cartello dove portava la gente di visitatori Era facile, basta seguire l'acqua e arrivi Eh sì, l'acqua del torrente è vero Ma questo non ci abbiamo pensato I prossimi cartelli, segui l'acqua Segui l'acqua Con la segnaletica verticale Sempre lui fa, fa tutto lui Faccio tutto io Senti, se per cazzo ci fosse una cosa da fare, chi la fa? E' Pino Lai E noi facciamo vota Pino, vota Pino, vota Pino Voi se lo ricorda sta storia Quando andò candidato, gli facciamo uno spettacolo Quante risate, facevamo vota Pino, vota Pino Vino, io so che ci tieni talmente tanto a Gravina Perché altrimenti chi se la prenderebbe tutta questa responsabilità? Cioè io non lo farei mai Non per Gravina Cioè sapere di avere una decina di deleghe Quindi il telefono ti squilla naturalmente quando tu non potresti rispondere E aggiungo, è uno che risponde al telefono E infatti uno dei pochi E se non può rispondere, dopo un minuto scusa Ti chiede scusa Così si fa Prendete questi sono gli esempi Quando Pierluigi mi ha presentato ha detto che io Oppure tu Savino, adesso non ricordo uno dei due sicuramente Ha detto io sono un imprenditore, è vero E se imprenditore oggi significa anche poter saper rispondere al telefono Anche perché la mia attività è quella di servizio Quindi io il mio telefono non lo spengo mai, mai, mai Ma non esiste un minuto che viene spento Se la sera non prendete sonno Se non prendete sonno Chiamate, facciamo Vanno in anno al telefono Vabbè, era giusto un modo di ridere Non è vero, la disponibilità di tu Una domanda la devo fare perché stiamo parlando con tanti Come dicono adesso quelli bravi Stakeholder di Gravina Però io perché una persona deve venire a Gravina Cioè Gravina, passo con l'auto Mi fermo a Gravina perché c'è il calzone ripieno Perché sta la segnaletica verticale Ve lo spiego io Cioè quante cose Non è vero O forse ne sono tanti Ma io ne sto a dire proprio qualcuno Allora innanzitutto Come abbiamo sentito prima Adesso lo ripeto Il pallone di Gravina È una specialità enogastronomica E anche gastronomica Poi abbiamo il calzone Ma aggiungo altro Perché in questi giorni Che di Gravina vedrà fisso Sulle nostre plange comunali Una mia iniziativa Dove io proporrò Scriverò e proporrò I nostri prodotti tipici Quali il calzone Quali il pallone Quali il vino la verdeca Quali il sasanello Il sasanello è un biscotto tipico Fatto col vincotto Con la cioccolata Con il latte Che dopo Un mese È ancora buono Però se lo lanci Contro un muro Spacchi il muro Poi lo rimetti nel vino E ritorna favoloso Bene Quello è un altro prodotto Tipico Gravinese I funghi Cardongeli Cardongeli E poi una cosa importantissima Che ci tengo a dire Noi abbiamo la focaccia Noi abbiamo la focaccia di San Giuseppe Che si chiama Diciamo nel gergo Ghialettale Il ruccolo Un rucco Un rucco Che questo è stato Il primo prodotto A Gravina Che abbiamo Abbiamo avuto Cambia dito Pino Cambia dito Abbiamo avuto La possibilità Di farlo diventare Deco Deco Significa Denominazione Comunale Che cos'è? Il prodotto Da dove nasce Fino a dove finisce Deve essere Tutto Tutto Diciamo Della città Di Gravina Quindi questo nasce Che le devo dire Dall'olio Fino All Tutta la filiera La filiera È tutta Gravina Se gli abbiamo dato Proprio Spiegalo Raccontalo Come viene preparato Brevemente Perché io No vabbè Ma gli ingredienti Perché pure Santino Ti ha guardato Allora io Faccio riferimento A quello che faceva Mia madre E quello che ancora oggi Fa mia moglie Nulla toglie Da mia moglie Ma non arriverà Ma mai E fu così Che chiamò la moglie Dicendo No ma io Lo sto facendo A posto Allora Si fa Allora Gli ingredienti Sono l'uva passera Poi c'è Le acciughe Poi c'è la cipolla In ghaletto La spunzale Quella cipolla lunga Non è la cipolla A caso Quella è lunga Il porro Il porro Bene Quella cosa là Vabbè Adesso si fa la preparazione Si fa questa pasta Più strati Poi si arrotola Allora si fa questa pasta Si mette Sulla spianatoia Poi si mette In questo condimento E si arrotola il primo strato Poi si arrotola il secondo strato E una serie di strati Che poi tutto questo Viene fatto Adesso facciamo un esempio Come un tarallo Chiuso su se stesso O meglio come un serpente Un girello Un girello Questa è la specialità Del ruccolo Sono diversi strati Capito Perché lui è la segnaletica Stratale Stratale Bene Vattutina Ci può stare Ci sono diverse versioni Ma il massimo E cipolla E quindi questa bellissima iniziativa Pino Che è quella Di trovare No anche perché Chiedo scusa Sulle nostre plange Poi mi sono Mi sono bloccato E continuo Dicendovi In virtù Di questo periodo Strano Del covid Lanciando Proponendo Questa cosa Come assessorato Spingere Vorrei spingere Tanto la popolazione Gravinese A non uscire fuori A comprare i prodotti All'autoconsumo All'autoconsumo Con i nostri prodotti Perché proprio Ci sono aziende Nostre Perché oltre Vedi Oltre alla tutela Dei valori Detto prima Io faccio anche Attività produttive Io conosco tutta la situazione Degli imprenditori E c'è stata una bella botta Per quanto riguarda Gli artigiani Per quanto riguarda I commercianti E eccetera Quindi io voglio Voglio spingere in più Motivare in più La città di Gravina Eventualmente Ad aiutare noi stessi Gravinese A comprare I nostri prodotti tipici E' un po' la politica Nazionale Nazionale Bene Pino Io che Sei un uragano Chiediamogli un'altra cosa Tanto ne sa tanto Quali sono le prossime Dele Le quali ambisce No no Dele che non ne ho Basta così No basta così Basta così Che l'impegno è serio Quindi ricordiamo Che sui manifesti Comunali C'è le piattaforme Uscirà questa iniziativa Che Che Per incentivare La popolazione Gravinese A consumare Nella nostra città E comprare Possibilmente I nostri prodotti tipici E io propongo una cosa Nel momento in cui Pino Questo è un invito Perché oggi è la giornata Degli inviti Perché sto vedendo Tante cose Carine Quando è pronta Questa cosa Penso mercoledì Ok Allora Visto che la puntata Andrà in onda Nel momento Nel momento Che siamo in onda Ma l'abbiamo registrata È normale Facciamoci anche un servizio Mandaci un comunicato stampa E noi lo diciamo Perché è giusto Che sia È un piccolo clip Un piccolo clip Due foto Che magari Documento C'erano tutte le foto Che abbiamo Diciamo selezionato Per questo manifesto Ah Ok Perfetto Amici grevinesi Noi come tutti Gli altamurani Non fermatevi solo a leggere Poggiani Materani Tutti qua Cercate di comprare I prodotti Della vostra terra Incentivate La vostra economia No Chiudo Anche dicendovi Questa non è una battuta Ma la verità Vedete come è il grande politico Chiudo Ma è la verità È la verità Chiudo Abbiamo parlato Pallone Verde Garruccolo Sasanello Calzone Funghi Funghi Pensiamo un attimino A Federico Secondo di Svevia Questa città Il mio antenato Non so se si vede Fatimo viene da Federico Sì sì Proprio l'AP di Federico L'AP di Federico Bene Federico Chiamava Gravina Il giardino delle delizie Inerente proprio A questa virtù Gastronomica Che veniva Posta a gustare Nella nostra città Quando lui aveva Il periodo Della caccia E veniva giù Qua da noi Mi consenti Vista la confidenza Una battuta Alzate il dito Santino Che dici Posso? E' uno dei pochi assessori Che al comune Mangia per diritto Perché Lui fa le attività produttive Alimentare E ha la delega al cibo A mangiare No lui ha detto Che in dieta Dall'82 Io dal 65 Da quando sono nato Pino Laico Un amico Oltre che un'istituzione Approfittiamo Pino A proposito di incrementare E aiutare Le attività locali Io ti regalo La card Della tua tv Perché questa è proprio Per creare un circuito E alimentare L'economia locale Con questa card Le attività che fanno parte Del circuito Riservano uno sconto Speciale Ai possessori Della card Allo stesso tempo I possessori Della card E le attività Aiuteranno L'agape Associazione Genitori Piccoli Emeopatici E in più Estraremo una card A fine anno Con il valore Di 5 mila euro In buoni Che serviranno Comunque Ad alimentare Le attività locali Penso che questa Questa idea Possa essere In linea In linea Con le attività Pilabui Pipi Pilabui Yeah